Come si inserisce oggi in Italia l'immunoterapia nell'algoritmo terapeutico dell'epatocarcinoma e quali sono le novità che arrivano dagli ultimi studi clinici? Noi ne parliamo con un esperto, il dottor Bruno Daniele, che abbiamo incontrato qui a Genova dove è in corso l'immunoterapia in pillole 2023, un corso residenziale promosso dall'Accademia Nazionale di Medicina e incentrato appunto sull'immunoterapia come strategia terapeutica per la cura dei tumori. Dottore, parlando di carcinoma epatico, quali sono le possibilità di impiego dell'immunoterapia oggi nella pratica clinica italiana? Cioè in quale ambito e con quali farmaci e con quali risultati? L'immunoterapia rappresenta uno standard del trattamento dell'epatocarcinoma avanzato inteso come epatocarcinoma che presenta metastasi, presenta trombosi del tronco portale oppure una diffusione epatica tale da non prevedere un'efficacia dei trattamenti locoregionali. Se non ci sono delle controindicazioni specifiche, in particolare varici esofagee a rischio di sanguinamento o controindicazioni all'immunoterapia come presenza di malattie autoimmuni, la combinazione Atezolizumab più Bevacizumab deve essere considerata lo standard per il trattamento di questi pazienti che abbiano un epatocarcinoma con le caratteristiche che ho precisato prima e una buona funzione epatica. In coloro per i quali questa combinazione è controindicata, ovviamente abbiamo delle altre opportunità, in particolare gli inibitori di tirosinokinasi, l'envatinib e sorafenib. È una terapia che generalmente è ben tollerata, tuttavia occorre fare attenzione ai rari eventi avversi immunocorrelati che vanno trattati precocemente e eventuali episodi di emorragia che nello studio clinico sono stati prevalentemente episodi minori di emorragia, ma la raccomandazione fondamentale è che questi pazienti vengano valutati prima di iniziare questo trattamento con una endoscopia digestiva delle vie digestive superiori per la valutazione delle varici esofagee e dell'ipertensione portale. E appunto che risultati si ottengono con l'immunoterapia in questi pazienti? In questi pazienti i dati di risposta obiettiva, intesa come una riduzione delle dimensioni del tumore superiori al 30%, sono per l'appunto intorno al 30%. In termini di sopravvivenza, i dati aggiornati dello studio parlano di una sopravvivenza mediana di circa 20 mesi. Occorre però tener presente che oggi abbiamo la possibilità di effettuare terapie anche di seconda e a volte di terza linea a progressione e questo aumenta ulteriormente l'aspettativa di vita di questi pazienti. Quali sono invece le ultime novità sull'impiego dell'immunoterapia provenienti dagli ultimi congressi? Per quello che riguarda la malattia avanzata, noi aspettiamo la rimborsabilità in Italia della combinazione Tremelimumab-Durvalumab, che è una combinazione tutta immunoterapica che ha dato un vantaggio rispetto al controllo con il sorafenib. Poi abbiamo dei dati molto recenti sull'impiego di atezolizumab e bevacizumab come terapia adiuvante dell'epatocarcinoma operato in maniera radicale oppure trattato con radiofrequenza, con termoablazione e con un risultato radiologico completo. In questi pazienti la combinazione atezolizumab e bevacizumab riduce in maniera statisticamente significativa le recidive di malattia durante il follow-up dopo questi interventi. Ovviamente abbiamo bisogno di qualche dato un po' più maturo, con un follow-up più lungo, ma certamente è un dato interessante e soprattutto è la prima volta che una combinazione di farmaci o anche un solo farmaco nell'epatocarcinoma si dimostra efficace come terapia preventiva delle recidive.